Abbiamo introdotto un formato nuovo che è quello dell'incontro tra gli imprenditori e gli ambasciatori e ieri nelle sale della Farnesina si sono sviluppati numerosissimi incontri di imprese nazionali che hanno voglia di internazionalizzarsi ed andare all'estero e hanno trovato nella interlocuzione con gli ambasciatori esattamente quel canale istituzionale per loro indispensabile.